Ciao Ciao E ci sta Vai raga dai subito Questa è vinta E' vintissimo proprio la sento dentro E' una cosa bruttissima da dire però la sento dentro vinta La sento Vai 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 tutti su Karen Che maloni mamma mia Andiamo su cosa la Non puoi avere mai il nome si Ok Blitz è morto ragazzi Non vorrei che trolla No ti prego basta non mi chiami troll perchè questa è una partita Davvero stupenda Chi è che c'ha bisogno di mana vieni qua Oh Usuka Invece mi ha preso subito perchè non voglio morire Oggi voglio fare una partita bellissima Sai com'è quando mi capitano ste partitone Dobbiamo cacciare le bolze Oh sapete che Karen mi puzza un po' di troll Ma un po' Raga ma sto salto io meglio di tutti L'amore di rimanere non lo giuro Questa è tutta Questa è tutta Io non dite niente contro Buddha Lo dico perchè sicuramente ninja guarderà questo video Non per niente Ma io non è che avete una cura eh per me No non lo so Vabbè non devi andare a prendere quella tra 8 secondi Non è che sei Mi siamo capiti Attenzione Oh ogni 3 minuti Ah non lo so io Lasciatemi una Non è vero Ma io siamo troppo fuori Ma non ci rida Poppy che fa la doppia triple G si ultima Ma roba Ma che è successo oggi è proprio lo spirito del Natale raga Non c'è niente che fa' C'è una prima partita in cui ho squadra Poppy e riesco ad andare bene Proprio io personalmente Oh ce l'ho ulti finalmente Comunque vi ripeto se non mi caro è un po' un trollone eh Non dico che un bot però un troll si No forse pure un bot Eh te l'ho lasciato però nell'altro mondo Raga o sono un hobby o non so che dimmi No ma ci Devi troppo stupidi Si questo si fa 4 Ma nooo Eh perchè sono morto vabbè a meno compra dai C'è un lato sempre positivo Ok fatto Ok raga sono ritornato Vabbè voi non me ne siete nemmeno accorti Però c'è stato un taglio gigante perchè mi è crashato League of Legends Però raga facciamo finta di nulla E andiamo a vincere sta partita Non Allora intanto abbiamo fatto 18 kill noi giusto? Quindi di oggi possiamo lamentare Soprattutto io Credo di avere Credo di avere Che abbiamo contro un troll ossia Garen Però non avendo neanche maestri Eh però c'ha Non lo so sapete raga che può essere Garen Se ha un troll o un bot Perchè non ha maestri nemmeno Zack Perchè non ha maestri nemmeno Zack Però non è un bot no Perchè non ha diciamo lo standard di Aram Ossia cura e cosa la E spiritualità come si chiama Ehi Ragazzi abbiamo beccato pure dei troll o contro Cioè a Natale sono tutti i più gentili L'hanno fatto apposta per farci vincere Mi sembra una cosa ovvia Vabbè noi apprezziamo questo sforzo Ma che ti puoi fare la pente Io una le ho uccisioni nel botto Ma vai vai c'è giusto una volta per festeggiare vai Oh! Ma come cazzo non l'ho preso Ah ehm Oh! Scusa! Ho laggato E vedrai domani nel video te lo giuro A parte che sei santa del zato pure il ping No davvero Michè non volevo Oh ma... Come l'ho ucciso che manco c'è stato là Io oggi sta succedendo una roba strana eh Veramente questo l'ho sfidato anche del Natale qua Una maledizione con Dramiche Facciamo tante kill? Ma è morto Ok dopo questo strilo molto mascolino Un po' di che abbiamo fatto una bella kill Eh a beccare è nutria che fai tanto del coattro Perché tu vieni qua per perdere 10.000 di Magari riesci a tirare una bombetta da un metro però Ah tipo Per rubare la kill ad acta Oh macchio Aiuto Aiuto Man bitches Ok 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 Ne è successo niente di male Tanto se tu non gli apri i cu Gli apri i cu No dai raga la vedi spussata i pezzi di me Oh arrivo Sono la kathleen Kathleen tu hai Sorella fa un brutto lavoro che non voglio dire Vai 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 Che fa? Lavori in lavanderia Che fa? Lavori in lavanderia Ah l'apelina Ho capito la lavanderia Oh L'apelina Ho capito la lavanderia Come l'ho ucciso signor Voi in video non avete capito nulla Perché mi sono mosso molto velocemente Però l'ho ucciso io eh Mi sei notato Attenzione Kathleen Ma che sei venuto a fare? Gli occhia fa sempre di buffette eh Attenzione Oh porca vacca Oh Oh dov'hai? Jinx proprio senza paura Ormai ci ha rinunciato pure lei Regà li stiamo arando Allora tra tutti L'unico che mi viene il dubbio che sia un bot è Garen Perché va avanti senza problemi e attacca Mentre cosa? Zack penso sia un troll Quindi ripeto lo spirito del natale ci ha fatto trovare dei coglioni Grazie Grazie Ma sai che ti dico? Ma sai che ti dico? Mo c'ha tiro pure senza motivo E invece l'ho ucciso ma senza problemi Katerini Piggio un biscotto Scusa Katerini scusa Ti volevo bene però eh Una volta Una volta Una volta Una volta eri la mia preferita Diciamo non lo sai più Strunzer Sì Che è successo? È scoppiato tipo male Dai ragazzi andiamo Andiamo ce la rapprende Tanto c'è mai preso da mezz'uolo però Sì però se rompendo un po' la palla Confront agli altri Garen ovviamente che fa tutto il coattro da solo Allora ragazzi c'era una conferma che Garen e credo sia un bot perché non compra nemmeno Mentre Zack compra quindi io non penso sia un bot Non è vero Eh ma ha comprato le cose basi capito? Quello che si comprano all'inizio poi non ha comprato più nulla No c'è un oggetto che ha comprato a fine della notte Ah vero 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 Ok sbagliati Eh ragazzi quindi sottrotto Vai tutta la ultima Ma non lo sapevo i guardi Guardi che Mario vuole un sacco Attenzione Sevi Ti mangia l'anima Ci vorrei tenere ulti però non sembra che figo Eh questa si muove veloce Ah va 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 da pare Mai c'è un c***o da un babbino c'ho Ah muo a Strunze Ho fatto sbagliato dei ulti questo oggi Si garen drolat brutalmente BOT non è botto perché comunque non c'è gli oggetti base Sta comprando quindi non è un botto però è un coglione Ragazzi direi di concluderla proprio easy subito Ah beh non è divertente Non lo so io che compro caso Ai vediamola diretta diretta no 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 ma perché te la prendi con me in strunz non stai ritrovando mamma mia un blitz era anche per me di carico a blitz era andato potere magico ha preso un oggetto che non è vero perché solo rigenerazione ma la vita armatura eccetera è forte con una buona per lui ai si viva e protegge la torre o cazza carene capito che tanta gente dei cazzi con me tv dovrebbe oh vai nice man tanto ormai easy ci hanno fatto purifitta come de porci de porci a natale fai morto care non si viva che non l'avevo visto prima nel fin di video mamma mia peppe ma che testo a raccontare per contro l'unica due che non stavano trollante da sottolineare si quella ultima no dovevo distruggere che c'è frega a me si finisce con i fuochi d'artificio vabbè raga io credo che il video parla da si una partita easy contro due troll lo spirito del natale che ci ha portato soltanto del bene mi raccomando per altri video di coppa legends spolliciate lasciate like commentate condivideteci becchiamo al prossimo video saluti da tutti noi e buon natale perché siamo in spirito natalizio ci becchiamo la prossima e ciao a tutti ragazzi